Prossimamente mi insedierò come consigliere comunale di opposizione ai banchi dell'opposizione ed entrerò in questo palazzo, palazzo di città, varcherò questa porta per far sentire la voce dei tarantini, per difendere i tarantini, innanzitutto il diritto alla vita, l'ho detto tante volte in campagna elettorale, quel mostro va chiuso senza se e senza ma, non ce l'ho fatta a fare il sindaco, pazienza, però 4200 voti sono un tributo enorme di affetto e di stima, per la questione ambientale sapete cosa farò? Sarò in contatto giornaliero, in contatto continuo giornaliero con l'ARPA e per ogni sforamento delle emissioni, rispetto ai parametri delle emissioni inquinanti, chiederò i dati e così prenderò questi dati e li sottoporrò all'amministrazione comunale di Taranto, li sbatterò in faccia, in senso metaforico, a sindaco e ad assessori, innanzitutto al sindaco e gli dirò, caro Rinaldo Melucci, questi sono i dati, che fai? La fai o no l'ordinanza di chiusura? Dati alla mano, dati ufficiali? E allora o ci saranno le ordinanze che la legge impone in base a quelle emissioni, a quegli sforamenti? Oppure io dovrò procedere nei confronti del primo cittadino, dell'amministrazione e dei responsabili in generale per omissione? Non si scherza, pretenderò che la legge sia applicata in materia ambientale e non solo, ma oggi ci stiamo occupando di ambienti, vorrò vedere dinanzi a quei dati cosa faranno e cosa diranno. Se dovessero fare orecchie da mercante, a questo punto li sbugiarderò, li sputtanerò dicendo questi sono i dati, perché non hai fatto l'ordinanza? Perché non hai fatto l'ordinanza? Gli sforamenti, le emissioni inquinanti aumentano sempre più, si moltiplicano, si intensificano sia di giorno sia di notte, soprattutto di notte e la mattina ci troviamo una coltre nera che soffoca, che ammorba la città. Questa coltre dobbiamo cancellarla in un solo modo, con le ordinanze di chiusura. Questo voglio e questo imporrò al primo cittadino. Non mollerò la presa, voglio difendere Taranto. Taranto vuole vivere, i bambini di Taranto devono vivere e ricordo sempre quella scritta, papà uccidi il mostro. Per Taranto ho sempre lottato, continuerò a lottare da consigliere comunale.